Questo che cos'è? Questo è un'edizione speciale, il telaio, un eremo di Officine Matti, un'edizione speciale dove abbiamo abitato anziché il classico logo in ottone, un logo in oro, zecchino e diamanti. E come mai avete avuto questa idea? Ma è per creare un'edizione speciale, per dare la possibilità a chi vuole spendere un po' più di soldi legati alla sua bicicletta ad accompagnarla con un prezioso, una cosa particolare e trovo che è stata apprezzata. E questo telaio quanto costa? Un telaio così, con il logo speciale, costa 10.000 euro. E è leggero anche? Sì, è un telaio leggero, anche se la performance non è tutto su questo telaio. E la bontà della costruzione non è solo il peso che fa la differenza nei telaio. Ah, ok. Esatto, è un po' il comfort, il fatto che sia prestazionale e il fatto che abbia una placca in oro e diamanti. Mi piace anche le ragazze. Sì, grazie.